e ciao ragazzi secondo video di giornata ma se non vi siete visti il primo andatevelo a vedere la live reaction dallo stadium l'esultanza l'atmosfera ho diverse cose da dirvi dal mio punto di vista dello stadium ho rivisto gran parte della partita ora a casa infatti sono le tre di notte ma è tornato dietro l'orario perché è cambiato quindi sono le due vi dico le mie opinioni adesso un po a freddo non più a caldo mischiando un po quella che è stata l'esperienza allo stadium esperienza pazzesca perché vivere una partita che si sblocca all'ultimo minuto ha sempre quel non so che ha sempre quel non so che e magari si tratta anche di partita imperfetta come lo è stato per esempio in occasione del 3 a 2 vi ricordate di guaina san siro io ero lì una partita brutta giocata la juve male però la sblocchi la non stai neanche più a guardare veramente la prestazione eccetera però in questo video si analizza anche la prestazione e devo rivedere alcune cose che ho fatto poi che ho detto nel post gara quindi le rivediamo insieme prima di iniziare vi invito ovviamente a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mi raccomando ragazzi e vi invito a commentare a dirmi la vostra opinione allora che c'è da dire su ieri allora ieri era una partita molto delicata molto delicata aveva un grado di difficoltà pazzesco perché ve lo dico sempre i big match si preparano da soli non c'è bisogno di aggiungere il carico di pressione eccetera le partite che vengono dopo i big match specie se poi i big match vanno bene gli scontri diretti c'è il rischio che ci sia quella sbornia da eccitazione di vittoria della gran partita che ti porta a sottovalutare inconsciamente eventi di quel tipo come Juve e la Sverona per cui era una partita scivolosa oltretutto in questa partita si incastrano due big match che bene o male la Juve ne beneficerà dai risultati di entrambe che sia un pareggio che sia la vittoria per l'uno o per l'altra poco importa perché qualcuno impedirà all'altra di fare insomma il passo in avanti se perde l'Inter con la Roma bene siamo avanti in classifica va bene così perdesse la Roma è un'avversaria che non ti viene lì a tallonarti e starti dietro in scia Napoli Milan idem con patate per cui questo aspetto qua ragazzi era fondamentale vedere un po' la classifica vincere per dare continuità quindi due situazioni che non andavano sottovalutate anzi andavano prese con grande serietà io credo che la Juve dal punto di vista dell'atteggiamento ci sia veramente ben poco ben poco veramente ben poco da da ridire cioè la Juve sono entrata con l'atteggiamento giusto poi sappiamo che tatticamente tecnicamente tutto è migliorabile tutto è perfezionabile eccetera la Juve è sempre questa roba qua però il dato è inequivocabile 30 tiri se importa decisioni avverse avversarie cioè decisioni avverse dell'arbitro scusate un po' la stanchezza e c'è stato di tutto un rigore non dato questa è una partita che ampiamente va a finire con un risultato molto più largo l'abbiamo sbloccata nel finale ed è giusto così perché nella sfiga siamo stati bravi non abbiamo mollato negli ultimi due minuti e guardate bene che per come si era messa la partita mollare mentalmente negli ultimi minuti era una roba fisiologica questa squadra non ha mollato un centimetro e credo che l'atteggiamento messo in campo sia stato veramente l'artefice del tutto è stato premiato l'atteggiamento e io ho visto una partita differente nel secondo tempo rispetto alla prima perché la prima io ho tanto il primo tempo ho tanto da ridire sul primo tempo perché dopo 20 minuti fatti discretamente bene ci siamo addormentati abbiamo regalato del tempo agli avversari dove loro non ci hanno mai impensierito ma anche noi non abbiamo creato tanto secondo tempo la juventra con un ritmo migliore eravamo tutti nella metà campo avversaria ci siamo riversati magari anche in maniera a volte confusionaria magari qualche trama invece è stata fatta bene ma era complicato era complicato perché noi soffriamo particolarmente le partite dove gli avversari ci lasciano giocare e ci lasciano il pallino del gioco due c'era una densità di uomini dell'ella sveglone erano tutti dietro la linea della palla era un casino nero tre le occasioni sono fioccate il secondo gol secondo me da annullare non mica tanto ragazzi il primo è una cosa oggettiva ne possiamo discutere di quale deve essere il margine di tolleranza del fuorigioco un tacchetto fa specie che queste cose succedano a noi dici ma che cavolo di sfiga ti fa arrabbiare sul momento anche io a caldissimo non l'ho presa bene dopo quando ho scoperto che era un tacchetto un tacchettino del cavolo che ci ha negato il gol un gol che poi moise ken meritava tantissimo e poi parliamo parliamo anche di questa roba qua poi vabbè moise insiste fa quel tocchettino a faraoni faraoni comportamento indecente non lo insulterò per una semplice ragione ci ha regalato comunque un accesso in champions league che mi fa ancora godere ancora oggi però si è comportato in maniera secondo me tanto antisportiva perché quel tocco è veramente leggero ed esagerato dal momento in cui ti chiamano al var tu vedi quel tocchetto in faccia il gol sei costretto ad annullarlo se ti richiamano perché c'è un chiaro ed evidente errore potenziale di conseguenza l'arbitro va a ritrattare e secondo me in quella situazione la si poteva andare benissimo oltre non c'era quasi nulla ragazzi cioè quella è una furbata di faraoni che sente sì quel contatto ma non mi è sembrato così tanto eccessivo da rimanere così tanto a terra tant'è vero che si alza perché era davanti a noi infatti io nella live reaction ragazzi la io ne ho detto di ogni però si alza la palla entra in porta e si ributta a terra e si rimette a rotolare questi sono comportamenti antisportivi si potrebbe fare qualcosa un reclamino a sto ragazzo almeno non dico sul piano delle sanzioni disciplinari parlo a parole dico a parole si può fare qualcosa si può dire che è stato vergognoso da ogni punto di vista l'avesse fatto uno della juventus un atteggiamento simile c'eravano state tutte le prime pagine che andavano lì a svergognarci ok invece non succederà nulla per quanto riguarda faraoni nulla di nulla arbitro comunque che non ha saputo tenere la partita dal primo all'ultimo minuto della seconda partita che vedo un livello arbitrale veramente infimo da maresca a questo qua sono rimasto un po un po deluso da questo aspetto dalla gestione della gara però fatto sta che il secondo gol moise lo fa e lo fa bellissimo di nuovo fa due gol bellissimi primo un'azione personale strepitosa secondo fa un'azione di testa la conduce lui da scaricapalla si ributta in mezzo all'aria prende il cross fa un gol bellissimo annullato anche quello per quel tocco là buttano chiesa in area di rigore nulla nada de nada come se nulla fosse neanche vanno a rivederla al VAR perché l'araby trova visto analizzato bene la situazione mortacci sua e poi alla fine l'abbiamo vinta ragazzi vincere così è bellissimo al di là di tutto le imperfezioni della pulizia tecnica e cos'è andato male che cosa è migliorabile eccetera vincere così è una gran cavolo di guduria poi se mi chiedete questa partita è manifesto allegriano che può dare continuità di rendimento a questa squadra non lo so non mi non penso e non mi fido però oggi la juve con l'atteggiamento che ha avuto in campo con questo atteggiamento può sicuramente giocare sulla con chiunque al di là di tutto perché io ricordo rischi veramente pochi a parte quella parata di cesni al 45esimo e basta dove abbiamo regalato quei 20 minuti alla al nulla cosmico neanche al verona perché neanche il verona c'è inserito più di tanto c'è stata con l'azione la fine fine cesni è stato impegnato una sola volta quella roba la poi per quanto riguarda la partita che vi devo dire i cambi hanno sicuramente dato una sterzata alla partita quando entrato chiesa quando entrato cambiaso che mi aspettavo dal primo minuto ripeto costice sotto tono non riesco a capire perché ci insista tantissimo allegri non so cosa mostri costici durante gli allenamenti non so cosa non vede invece in cambiaso cambiaso che secondo me ha dato anche qualità e fluidità la manovra perché si buttava in mezzo perché aveva il passo aveva l'intraprendenza eccetera in tanti sono incazzati per wea wea a me ragazzi wea piace perché un bel giocatore individualmente secondo me ha tante cose da farci vedere il punto è che punta sempre allo scarico indietro punta sempre al passaggio facile punta sempre alla giocata semplice e probabilmente serve qualcosa in più sul piano della personalità nella scelta di certe giocate nell'osare un po di più questa è l'unica cosa che vado a criticare io a wea per il resto tutti positivi tranne i dusan che è stato probabilmente il più negativo non ha inciso nulla poco nulla nella partita mi è spiaciuto vedere moise uscire anzitempo avrei fatto uscire piuttosto vlaovic questo ragazzi è una cosa che volevo dire e sottolineare moise in questo momento sta meglio più in palla non ho capito perché far uscire moise e ken e poi ci è rimasto malissimo ha tirato dal rito negli spogliatori ha discusso anche con l'anducci perché ero lì per cui ho visto esattamente la scena quando stava discutendo appunto con l'anducci però ripeto è stata una partita folle piena di eventi che potevano effettivamente essere un po catastrofici no incidere negativamente sull'umore di questa squadra la squadra non si è tirata cioè non si è fatta prendere dalla negatività ha tirato dritta per la propria strada questa è sul piano mentale ragazzi veramente è una roba impressionante perché questa è una juve che dal sul piano mentale non vedo a tempo poi spero che arrivino vittorie un po più più grasse in termini di di resa di gol eccetera perché anche quelle servono per dare consapevolezza alla squadra però vincere una partita così sicuramente aiuta non so se sarà una uno spartiacque sul piano mentale di consapevolezza del proprio valore del fatto che questa squadra è una squadra che riesce a non mollare un centimetro per tutti i minuti della partita non dico 90 perché sono molti di più alla fine e quindi è questa la cosa che mi porta a casa questa partita l'atteggiamento giusto la fame la voglia di andare su ogni pallone nel secondo tempo e vedere una juve che gioca così anche magari non proprio perfetta ma con questa voglia da un altro cioè ti butta dentro ti coinvolge noi lo stadio ma è stato infernale oggi è stato infernale dal punto di vista ambientale cori accompagnamento alla squadra critica all'arbitro tutto ogni singolo evento ha non lo so quasi creato una strana fusione di energie positive che hanno spinto la squadra dal primo all'ultimo minuto ma all'ultimo minuto nel finale la squadra era spinta tantissimo dal pubblico spinta tantissimo per cui è stata una cosa molto molto bella molto molto bella per il resto vi dico tecnicamente la partita cosa c'è da migliorare in primo tempo secondo me qualcosa in mezzo al campo in più si può fare come Kenny e Rabiot sono mancati un po loro però abbiamo trovato delle belle trame anche con delle giocate in verticale con l'attaccante che veniva sotto controllava eccetera abbiamo fatto qualcosa di decente abbiamo cercato tanto sbocchi sugli esterni si può fare di più beh sicuramente ma oggi ragazzi 30 tiri se importa si può migliorare sulla precisione probabilmente visto il dato ecco perché solo il 20 per cento dei tiri è andato a segno in porta nello specchio della porta per il resto mi pare che i dati la partita vista dicono che c'era solamente una squadra in campo l'altra stava cercando di non prenderle che la Juve ha fatto la partita l'ha fatto magari in maniera imprecisa a volte pasticciona ma sicuramente la Juve non ha demeritato ha strameritato la vittoria quindi contentissimo per questa vittoria adesso godiamoci le altre partite di campionato e niente io vi mando un forte abbraccio ragazzi e sempre fino alla fine Forza Juve